Villa Medice alla Magia di Quarrata potrebbe entrare a far parte del progetto Uffizi Diffusi. Stamani il direttore delle gallerie degli uffizi, Heike Smith, ha visitato la struttura insieme al sindaco di Quarrata, Marco Mazzanti. È senz'altro fattibile ed è strategico, io sono molto contento della provosta del sindaco e anche del consiglio comunale unito a proporre di far parte del progetto degli uffizi diffusi. Qui abbiamo veramente una villa radicata nel territorio, tra l'altro in questa bellissima giornata di sole si vede anche quanto bello che sta nel paesaggio tipicamente toscano. È una villa che già da anni è interessata a un recupero, un restauro e quindi anche questo è un punto molto a favore perché è uno dei criteri per gli uffizi diffusi perché qui non si valorizzano soltanto le opere d'arte, qui si valorizza anche un bene immobile del comune di Quarrata. Per i tempi? Dipende dalla tipologia di evento espositivo. Penso che sia un passo fondamentale perché noi abbiamo partecipato al progetto degli uffizi diffusi con la nostra villa La Magia e l'impegno sarà quello di arrivarci anche grazie al museo degli uffizi che si sono dichiarati disponibili e quindi speriamo di ottenere questo risultato per tutta la provincia di Pistoia.